90 minuti per convincere i telespettatori indecisi, è questo il tempo che avranno a disposizione i candidati Mitt Romney e Barack Obama nel primo duello televisivo di queste elezioni presidenziali. Il dibattito si svolgerà all'Università di Denver, in Colorado, uno dei cosiddetti swing state, ovvero stati in cui i cittadini non hanno una netta preferenza per i repubblicani o per i democratici. Tutti i sondaggi danno in vantaggio il presidente uscente, ma con uno scarto che non permetta ad Obama di cantare già vittoria. Da qui l'importanza di questo dibattito televisivo, che diventa cruciale per entrambi i candidati. Per Romney è l'occasione di far dimenticare alcune delle sue ultime gaffe e di convincere gli indecisi della bontà della sua ricetta economica. Per Obama è invece il momento di consolidare il suo vantaggio, cercando di dare rassicurazioni sulla situazione economica degli USA.